Molto spesso le viti si ossidano, come stai vedendo in questo caso, quando si ossida la vite è estremamente difficile da smontare, quindi è fondamentale che usi il cacciavite della misura corretta, fondamentale. Questo non va bene, come puoi vedere non solo è più piccolo, fa più gioco ed è anche più difficile da tenere. Cacciavite corretta, la misura è la sua, molto più stabile, ha un gioco minimo, 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 ci deve essere perché se non ci fosse proprio zero gioco probabilmente è perché la misura... magari è troppo grande e allora non prende bene e hai l'effetto opposto, spani come un muro. È più difficile da tenere, quindi tienilo, però la testa della vite che in questo caso è tutta incassata è la testa del cacciavite. Lo tieni, fai forza, appoggi e sviti. So cosa stai pensando, dove ho preso queste magliette, sono in officina, che te lo dico a fare?